Presentato a Lubiana il progetto KAMA, ossia il centro per le architetture militari dell'Alto Adriatico. Si tratta di un'iniziativa italo-slovena volta a rafforzare la collaborazione nel campo del restauro e della gestione sostenibile delle strutture militari in questa parte d'Europa. Ce ne parla Lores Braiko. Il progetto KAMA rientra nel programma di collaborazione transfrontaliera Slovenia-Italia ed è cofinanziato dal Fondo Europeo per lo sviluppo regionale. Nel progetto sono attivi 13 partner italiani e sloveni che hanno dato vita ad un centro dedicato alle strutture militari dell'area alto-adriatica. Sono guidati dalla Regione Veneto. Quindi un centro che dovrà occuparsi delle tematiche sia del restauro che della conservazione ma anche della gestione sostenibile di questo straordinario patrimonio che accomuna i territori dell'area di progetto. Il progetto riguarda le strutture militari del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia. Regioni accomunati dalla volontà di gestire al meglio questo patrimonio. Quali le prospettive future e quindi gli sbocchi da cui questo progetto potrebbe entrare spunto? Vogliamo arrivare all'obiettivo finale che è quello di conservare al meglio le architetture ma anche di generare sviluppo sui nostri territori. Quindi di dare occasioni di lavoro a restauratori, a studiosi, a operatori culturali. Vogliamo formare nuove figure professionali. Quindi vogliamo veramente incidere sullo sviluppo del territorio. Questo lo vogliamo fare assieme, scambiandoci le esperienze, scambiandoci le competenze che sono importanti in entrambi i territori.